Ciao ragazzi, benvenuti su Cassiub Drums. Come potete vedere oggi sono davanti al mio pad, è già un po' che non faccio video sul pad, quindi ho detto facciamo un bel videozzo sul pad così almeno sfruttiamo al massimo queste vacanze per poter studiare, per poter migliorare eccetera, ma ovviamente questi esercizi che vi darò oggi, questa tipologia di esercizio è un po' strana, devo dire, che vi darò oggi, vanno bene tutto l'anno, tutti i mesi, tutte le stagioni. Quindi oggi voglio darvi un esercizio di tecnica mista a un po' di altre cose, c'è un po' di coordinazione particolare che secondo me questa tipologia di coordinazione qua non l'avete mai fatta, non l'avete mai vista, c'è un po' di tempo nel senso che dobbiamo stare attenti a un po' di cose per quanto riguarda il timing eccetera, quindi è un misto di cose che ci serve per studiare delle cose insieme, nel senso non è che dobbiamo per forza fare la tecnica, quindi dobbiamo metterci lì Il tempo, click, la coordinazione, fare l'esercizio del libro, no, possiamo mettere anche un po' insieme le cose, quindi vi spiego tutto dopo la sigla. Ah e probabilmente l'avete visto, ma c'è anche lui nel video oggi, voleva stare lì, si è messo a dormire e ho detto vabbè ok ti lascio lì e ti lascio nel video, vero Leo? Infatti. E quindi niente ragazzi, sigla. Allora oggi in pratica voglio darvi un po' di spunti per farvi capire come funziona questa tipologia di lavorazione, questa tipologia di studio, in modo tale che poi possiate andare avanti voi in base a cosa vi serve, a cosa vi piace eccetera. Prima cosa andare a trovare delle diteggiature per vari gruppi di note, io partirò dal 2 e arriverò fino al 6. Vi faccio vedere queste tipologie di note, poi ovviamente avete il pdf scaricabile anche qui sotto in descrizione. Allora, gruppo da 2, 2 note, un accento, una ghost, quindi destra, sinistra. Gruppo da 3, destra, sinistra, sinistra, mancini, sinistra, destra, destra, ma comunque mano forte, mano debole, mano debole. Gruppo da 4, poi vi spiego bene il perché di tutti questi gruppi, gruppo da 4, paradiddle. Gruppo da 5, rullo a 5 senza pause, quindi Il rullo a 5 in teoria sarebbe Io lo sto allargando E infine gruppo da 6, paradiddle diddle Con due accenti sul primo e sul secondo colpo, le ghost tutte normali Questi sono degli esempi di diteggiatura, voi ovviamente potete trovare le vostre per fare questo tipo di esercizio qua. Allora, la cosa è questa, dobbiamo andare a coordinare adesso la nostra voce con queste diteggiature qua. In che modo? Andando a contare le pulsazioni da 1 a 4. Quello che suoneremo come gruppi di note saranno sedicesimi, quindi nel caso del paradiddle sarà molto semplice. Gruppo di note da 4 e noi dobbiamo contare le pulsazioni e quindi sarà giusto. Cioè 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Perfetto, quando conto do anche l'accento. Andando agli altri gruppi invece diventa un po' più complicato. Allora, per adesso, in questa prima parte, andiamo a contare le pulsazioni fino al numero del gruppo di note. Quindi, con un gruppo di note da 4 contiamo fino a 4, con un gruppo di note da 3 contiamo fino a 3, con un gruppo di note da 5 contiamo fino a 5. Come se fossimo in 4 quarti, 3 quarti, 5 quarti. Questo perché il nostro gruppo di note, se pensato in sedicesimi, occupa perfettamente quel tempo lì. Ad esempio, se io vado a fare il gruppo da 3, occuperà 3 quarti. Attenzione che però il gruppo da 3 non sarà da contare 1, 2, 3, perché in questo caso starei contando in terzine. Sarà da contare in sedicesimi. Quindi, sedicesimi sono 1, 2, 3, 1, 2, 3 Un po' difficilotto, però è fattibile. Il 4 l'abbiamo fatto, il 2 è molto semplice, contando fino a 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Il 3 fatto, il 4 fatto, il 5, con il 2 a 5, partiamo di nuovo ai sedicesimi. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1 E poi, infine, il gruppo da 6, parla didol didol con due accenti. Volendo, lo potete fare anche con un accento solo. Io lo faccio con due accenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Allora, cosa serve a questo esercizio? Serve per prima cosa per andare a capire, nelle pulsazioni e soprattutto in base ai sedicesimi che dobbiamo andare a suonare, dove cadono gli accenti. È importante, se noi andiamo a fare poi un passaggio sulla batteria che fa il gruppo da 3 Pan, 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 pan Dobbiamo riuscire a capire dov'è la pulsazione 1, 2, 3 1, 2, 3 Adesso, per adesso, contiamo in 3 In modo tale da chiudere giusto il pacchetto, diciamo, il gruppo di note Ma dopo andremo a contare anche in 4 quarti Quindi sarà ancora più difficile Per adesso rimaniamo qua, però E capiamo la pulsazione e come muovono quegli accenti Io posso anche fare un click Però è importante che io senta proprio gli accenti E pensate a un passaggio Se io non ho quegli accenti lì, io posso pensare 1, 2, 3, 4 E poi dove sono? Perché mi sono perso Invece, in questo modo, è fattibile Adesso, un esercizio che vi do da fare Di tecnica e un po' di concentrazione E anche coordinazione e concentrazione, soprattutto È quello di andare a fare i gruppi di note Da 2 a 6 E poi tornare indietro Quindi facciamo 2 volte 2 2 volte 3 2 volte 4 2 volte 5 2 volte 6 E poi torniamo indietro Quindi, conto fino a 4 E poi partiamo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 1, 2, 3, 4 5, 6 1, 2, 3, 4 5, 6 1, 2, 3, 4 5, 1, 2, 3 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 quindi questo è diciamo la piramide finale voi partite uno alla volta e poi andate avanti tra l'altro devo dire che sto usando queste bacchette qua della Promark giusto per ve le consiglio veramente sono le Promark Classic 5A Fair Grain sono delle bacchette fighissime in icori ma fate con un trattamento strano che è tipo quello delle come si chiamano le mazze da baseball e quindi gli danno tipo fuoco e diventano molto più resistenti effettivamente si spaccano pochissimo e rimbalzano veramente veramente molto bene questa giusto una parentesi adesso andiamo a fare la stessa cosa con gli stessi gruppi che per me sono questi qua vi ripeto poi per voi possono essere altri ma andiamo a contare fino a a 4 quindi per il paradiso è sempre semplice 1 2 3 4 1 2 3 cioè come facevamo prima per gli altri è più difficile allora proviamo quindi finché il 2 è abbastanza semplice 1 2 3 4 1 2 3 4 tutto fattibile nel momento in cui noi andiamo già suonare il gruppo da 3 diventa veramente molto più difficile perché 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 e allora qui ci vuole un po' di pratica e soprattutto bisogna cercare proprio di dimenticarsi completamente quello che stiamo facendo con le bacchette così in questo modo noi ci dimenticheremo cosa stiamo facendo con le bacchette e possiamo pensare ad altro cioè a contare nel momento in cui andiamo sulla batteria possiamo tra virgolette dimenticarci magari che stiamo facendo un groove o che stiamo facendo un ostinato qualcosa e intanto pensare a cosa fare dopo durante la canzone a che fil fare magari stare a sentire quelli che stanno suonando insieme a noi che non sarebbe male quindi questo ci permette di concentrarci senza dover pensare cavoli sto facendo destra sinistra sinistra ghost accento eccetera questo qua per quanto riguarda il 3 l'idea è quella di riuscire a suonarlo per 3 battute complete quindi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 perché si chiude il ciclo e torniamo di nuovo a suonare nella quarta battuta quindi nella battuta dopo l'accento con la nostra mano forte come abbiamo fatto all'inizio quindi si chiude il ciclo la cosa che potete fare per aiutarvi è quella di contare 1 2 3 4 ma sul one contare il numero della battuta quindi se siamo a battuta 1 sarà 1 2 3 4 se siamo a battuta 2 il one conterà la battuta quindi diventerà 2 e poi 2 3 4 la terza battuta sarà 3 2 3 4 so che sembra una cosa un po' strana però vi aiuta a capire a che battuta siete finché sono 3 battute è semplice ma quando poi iniziano ad essere 5 a un certo punto non sapete più a che numero di battuta siete quindi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 1 mi sono anche dato una bacchettata sulla bacchetta ma vabbè per quanto riguarda il paradido molto semplice uguale a prima 1 2 3 4 1 2 3 4 per quanto riguarda il 5 faremo 5 battute quindi da 1 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 5 2 3 4 e infine il 6 lo possiamo fare per 6 battute ma volendo si chiude anche a 3 battute facciamolo per 6 battute 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 4 2 3 3 4 5 2 3 4 6 2 3 4 1 adesso quello che possiamo fare questo è proprio un riscaldamento secondo me il riscaldamento è figo perché riscalda la testa e riscalda le mani quello che possiamo fare è andare a fare di nuovo una piramide in cui facciamo una volta ogni gruppo di note per il tot di battute che ci servono per completare quel gruppo di note quindi 2 battute per il 2 3 battute per il 3 4 battute per il 4 5 per il 5 6 per il 6 andando ovviamente a contare sempre 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4 in base a quante battute dobbiamo fare 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 no devo partire dal gruppo 2 non dal gruppo 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 2 3 4 1 2 3 4 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. E' fatto, sono anche tornato indietro, non ve l'ho detto, sono tornato indietro, ad un certo punto mi sono inceppato poco la voce perché a forza di parlare avevo problema di selivazione e non sapevo più come fare quindi mi sono fermato un attimo e ho detto poi vabbè potete se dovete deglutire un attimo fatelo tranquillamente mentre continuate a suonare poi ricordatevi solo di non perdere il conto perché altrimenti è un problema. Quindi questo esercizio qua lo trovate nel pdf qui sotto, io ho lasciato i due esercizi principali che sono le due piramidi che tanto lì ci sono tutti esercizi sono comunque divisi per come si dice per riga fatemi sapere se volete altri video su pad se vi piacciono in generale i video su pad fatemi sapere se vi piacciono anche questi esercizi un po' pazzerelli diciamo che non sono solo focalizzati a tecnica coordinazione timing come dicevo ma sono un po' in generale un po' un mix di tutto che può servire come workout eccetera 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 iscrivetevi al canale ragazzi se vi piace come il mio modo di spiegare tutto e tutto soprattutto è tutto ci sono i miei corsi online trovate tutto qui sotto in descrizione ragazzi noi ci vediamo al prossimo video ciao